Arrestati a Lago Negro il sindaco Maria Di Lascio e il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Basilicata, Francesco Piro. L'ordinanza di custodia cautelare è stata loro notificata nell'ambito dell'inchiesta della DDA di Potenza sulla sanità lucana. La Di Lascio e i domiciliari, Piro invece, è stato tradotto in carcere perché gli vengono contestate relazioni con esponenti della locale criminalità organizzata. Non di rado, hanno detto dalla DDA, per raggiungere proprie finalità personali, politiche ed elettorali e a scopo intimidatorio ostentava ai suoi interlocutori i suoi asseriti collegamenti con contesti criminali calabresi. Misure anche per Francesco Cupparo, assessore regionale all'agricoltura per il quale è stato disposto il divieto di dimora a Potenza, Rocco Leone, attualmente consigliere regionale, ex assessore alla sanità per il quale è stato disposto l'obbligo di dimora a Potenza, Policoro e Giuseppe Spera, direttore generale dell'ospedale San Carlo di Potenza. Oltre 100 gli indagati in una vicenda che ruota principalmente attorno alla costruzione del nuovo ospedale di Lago Negro, ma che tocca anche altre questioni, tra cui quella della gestione dell'emergenza Covid, con le corsie preferenziali per i tamponi e i personaggi influenti, e la vicenda di Barresi, direttore generale del San Carlo di Potenza, di cui in passato si era sollevata la questione dell'illegittimità dell'incarico e per cui sarebbero contestate alcune delibere di giunta, con il coinvolgimento nell'indagine di tutti gli assessori regionali dell'epoca. Il presidente della regione Basilicata, Vito Bardi, sarebbe invece indagato per aver favorito il trasferimento di un finanziere, essendo egli Stato vicecomandante generale delle Fiamme Gialle. Il suo ufficio in regione è stato perquisito e il suo cellulare è stato posto sotto sequestro. Sequestro in corso anche presso l'ospedale San Carlo e la sede della regione Basilicata. Tra gli indagati figurano anche il vicepresidente e assessore regionale alla sanità, Francesco Fanelli, l'assessore regionale alle infrastrutture, Donatella Merra, e l'attuale assessore del comune di Lago Negro, Gianni Mastroianni.